Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Gioco una Blitz contro un 2100 e vediamo di ritornare a 2200. Francese. Gioco questa variante poco conosciuta, poco giocata. Per l'altro per sorprendere l'avversario di uscire dalle linee più comuni che sono ovviamente cavolo C3 o E5. O E per D però, E per D le varianti di cambio dà ovviamente a poco al bianco. Invece questa è un po' strana. L'idea è che poi metto questo alfiero in F3 che dà fastidio per lo sviluppo dell'alfiero in C8. Poi il cavallo andrà in E2. Cavallo F6 alfiero in E7. Ok, cavallo va in E2. E poi arrocco corto. Su C5 posso giocare l'alfiero in E3. Vabbè intanto arrocchiamo. Ok. Adesso vediamo un po' come svilupparci. Senti tutto se non l'avete fatto vi chiedo di mettere il like al video se vi piacciono questi contenuti che porto. E iscrivetevi al canale YouTube in modo da aiutarmi a crescere. Anche se ormai siamo veramente in una community molto molto grande. Sono super soddisfatto. Però vediamo di crescere sempre di più. Cavallo in D7. Allora, questo alfiero ha 6 problemi grazie al mio alfiero in F3. Però intanto devo comunque sviluppare i miei pezzi. Dove li piazziamo? Allora, alfiero in F4, cavallo in D5, alfiero in G3. Cavallo tipo potrebbe andare verso E5. Sono molto indeciso. Dove piazzare i miei pezzi. C4 è interessante secondo me. Anche se il pomeriggio è D4 poi rimane debole. Vabbè, giuro però in maniera solida. Quindi giuro in maniera solida. C3. Torre in B8. Ok. Cavallo D2. C5. C5. Allora, se mi cattura io catturo con il cavallo. Anzi, metto il cavallo in una posizione ancora più centrale. Quindi nessun problema. Allora, cavallo E4 era l'immedia iniziale. Però effettivamente, forse il cambio dei pezzi comunque dà vantaggio al mio avversario. Metto questo cavallo in B3. Perché i suoi pezzi sono legati. Questo alfiere non si può muovere. Quindi voglio mantenere i pezzi in gioco. B6. Allora, pedone per, cavallo per. Cambio un po' di pezzi. Non succede niente. Allora, alfiere E3, idea per non è per, cavallo per, cavallo per, cambio tutto. E poi C5 è indifeso. Allora, vediamo un poco. Perché secondo me il finale dovrebbe essere buono. Quindi, alfiere per, torre per, pedone per, pedone per. Anche cavallo E5 poi avrei. No, no, no. C'è la regina. Pedone per, pedone per. Oh, questo pedone poi è debole. Questo è sicuro. Dai, non mi dispiace. L'unico fatto è che gli apro la colonna B, quindi poi mi attacca a B2. Vabbè, posiamo in questo piano. Non cambio le regine perché voglio la colonna D. Quindi io metterei la regina tipo in C2, che difendo, e poi porto la torre in D1. Secondo me questo è l'idea. Questo cavallo, invece, provo a portarlo in D3 per attaccare C5. Cavallo D5 non l'avevo pensata. Vabbè, però lo inchiodo. Cavallo per alfiere. Torre per donna. Cavallo per donna. No, perdo un pezzo. Cavallo D5 è buona. Cavallo D5 è bella mossa. Dà un sacco di fastidio. Ok. Vediamo un po'. Torre D1. Cavallo per alfiere. Pedone per. Con l'idea, poi, di avere un po' di contrattacco grazie alle colonne aperte. Potrebbe essere un'idea. Proviamo. Non sono convintissimo, sinceramente. Però alfiere D2 non mi piaceva. Super passiva. Non è in B8, attacca B2. Vabbè, intanto difendiamo B3. E poi vediamo di attaccare. Quindi un'idea è torre F3, torre H3. Mi attacco H7. Altre idee. Torre F3, inoltre, anche come idea torre F1. Attacco F7. E siccome mi fa alfiere D5, io gioco torre F3 subito. Ci sarebbe anche cavallo F4. Come buffare E5. No, torre F3 secondo me è interessante. Ok, torre in D8. Io voglio tenere i pezzi in gioco e voglio attaccare. Se non metto torre F1, mi piace. Dai, sì. Torre F1. Comincio l'attacco ad F7. Idea, in futuro, anche da un F2. Torre F7 in realtà non ha grandi minacce. Dobbiamo di continuare un po' l'attacco. Settore H3 mi fa H6, semplicemente. Cavallo G3, cavallo E4. Questo può essere interessante. Semigiocatore in D2. Donne 4. Tutto difeso. Cavallo G3. Quindi idea, cavallo E4, attacco C5, attacco l'alfiere. La gioco comunque. E poi libero per donna F2. Cercando tatticismi, non ne vedo, attualmente. Allora. Donna F2, donna per cavallo. No, non c'è niente, non c'è niente. Non mi piace questa posizione. Ok, devo muovere. Non so che fare. Lui minacciò F5. Forse è meglio fargliela fare. Di sicuro potevo giocare meglio. Però non è ancora finita. Cavolo Coco, ma si attacca qui? Allora. Se il cavallo va in H5, ci possono essere sacrifici interessanti. Addirittura così. 3, 5, 2, 4, 6, pedone in meno. Difendo e attacco. Se non gioco F5, gioco C4. Così metto i pennelli su casa chiara. In modo tale che non vengono attaccati dall'olfiere. Se gioco F5, catturo. C4, poi posso pure giocare... Vabbè, non più che G3, reggi 1. E questo non ce l'avevo pensato. Però non è chiarissimo questo finale. Vediamo un po'. Secondo me ci sono buone chance per me. Per riuscire a guantare. Allora. No, il cavallo devo andare ad attaccare, però prima devo bloccare questo pedone. Devo fissare la debolezza. Idea A6. Scacco cavallo B5 e catturo. Attenzione, no, ho catturo qui. Ho catturo qui. Vabbè, spingiamo un po' il pedone. Vabbè, catturo C5 perché se catturo il fio ovviamente vado a promozione prima. E poi catturo anche i 4. Ok, così secondo me vinco. Vediamo se ho calcolato male. K7, RQ, K8, scacco. E ora promuovo con scacco. Wow. Finale rubatissimo. Però bisogna... Bisogna conoscere le finali. Donno a qui. Scacco, Rd2 ed è finita. Incredibile, io con pochissimi secondi e lui con tanti minuti ha completamente cannato il finale. Allora, qui in realtà secondo me è patto. Però io ho fatto una minaccia prima sul pedone a7. Quindi se lui avesse continuato con Rf5, quindi difendendo il pedone, poi con quest'idea di cercare di attaccare, lui ha fatto quello c7, quello b5, quello per a7 per poi promuovere il pedone. Penso, cioè è sicuramente patto perché qui secondo me se lui si difende, semplicemente quindi porta poi l'alfiere a difesa del pedone, io non ho chance di vittoria. Però è interessante notare come basta veramente poco per riuscire addirittura a vincere un finale dove ero inferiore. Quindi consiglio studiare anche i finali. Se vi piace questa partita in generale con tutti che porto, vi chiedo di lasciare un like e vi lascio qui dei video intorno in pressione. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!